Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Oh Fiorentina A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori La stampa italiana, oggi in edicola, si sofferma sulle difficoltà della Fiorentina in questo mese di ottobre dove gli uomini di Mister Pioli hanno raccolto solo tre punti ma soprattutto hanno ostentato a trovare gol su azione Simeone e compagni, anche contro la Roma, sono rimasti a secco e c'è chi oggi lancia un'interessante suggestione Federico Chiesa come falso 9 proprio come Mertens nel Napoli che due anni fa ha sorpreso tutti e continua a regalare soddisfazioni Sicuramente alla Fiorentina servono nuove idee lì davanti e dopo l'ostentato inizio di Piazza e Miraglias venerdì a Frosinone il tecnico emiliano potrebbe provare Gerson nel tridente offensivo L'ex Roma contro la sua ex squadra ha giocato un'ottima partita e potrebbe diventare un'alternativa in attesa del croato Per Fiorentina1.com, Pasquale De Stefano Viola Tweet, Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola